E' allarme al reparto urologia dell'ospedale di Eboli, che dovendo assistere un bacino di utenza pari ad oltre 300.000 abitanti, risulta in grave carenza di personale medico, nonostante sia stato regolarmente bandito ed espletato un apposito concorso. Il rischio di riduzione delle attività, denuncia la FSI Sanità, è ormai prossimo poiché con tre medici su sei previsti dalla normativa non si riesce a gestire l'urgenza ed emergenza nei flussi ambulatoriali e le liste d'attesa per gli interventi programmati a tutto danno dell'utenza. Sembrerebbe, dichiara il responsabile della FSI Rolando Scotillo, che il commissario dell'Asla di Salerno non abbia intenzione di nominare i vincitori del concorso di urologia e non abbia intenzione di far scorrere la graduatoria predisposta, onde sanare tutte le carenze.